Sandalo giallo. Sono stata al mercatino dell'usato, non che cercassi qualcosa di speciale, magari una borsa o un bel bracciale, e mi aggiravo con fare sbadato. Poi d'un tratto, che luce, che abbaglio, un sandalo giallo con fibbia a platò. Ma quanto costerà il mio magico pentò? Otto euro. Un sogno o uno sbaglio? Sava Sandir li prese all'istante. Solo a casa il mio fervor si è dissipato. Infatti è chiaro, il paio era spaiato e per il prezzo ragion bastante. Uno del quaranta e un del quarantuno. Scomodi sì, ma belli come nessuno. E metto, non se ne accorgerà alcuno. Sì, ma belli come nessuno. Sì, ma belli come nessuno.